Il buon senso è tra tutte le cose quella meglio distribuita. Ciascuno infatti ritiene di esserne così ben fornito, che persino quelli che su di ogni altra cosa sono i più difficili a contentarsi, di solito non ne desiderano di più di quanto non ne posseggono. Non è verosimile che tutti si ingannino in proposito, ma questa circostanza sta piuttosto a testimoniare che la facoltà di giudicare bene e di distinguere il vero dal falso, nel che consiste propriamente ciò che si chiama buon senso e ragione, è per natura uguale in tutti gli uomini, e che perciò la diversità delle nostre opinioni non dipende dal fatto che gli uni siano più ragionevoli degli altri, ma semplicemente dal fatto che conduciamo i nostri pensieri per vie diverse e non consideriamo le stesse cose. Non è sufficiente infatti essere dotati di un buon ingegno, ma l'importante è saperlo applicare bene. Le anime più grandi sono capaci dei maggiori vizi come delle maggiori virtù, e coloro che procedono molto lentamente, se seguono sempre il giusto cammino, possono percorrere un tragetto assai più lungo di quelli che corrono, ma se ne allontanano. Per quanto mi riguarda, non ho mai presunto che il mio ingegno fosse nulla più perfetto di quello di qualsiasi altra persona. Anzi, ho spesso desiderato di avere un pensiero così pronto, o l'immaginazione così netta e distinta, o la memoria così vasta o così presente, come quella di altri. E oltre a queste, non conosco quali altre qualità possano contribuire alla perfezione dell'ingegno, perché per quanto riguarda la ragione o il buonsenso, essendo essa l'unica qualità che ci rende uomini e ci distingue dalle bestie, voglio credere che essa sia tutta intera in ciascun uomo, seguendo in ciò l'opinione comune dei filosofi, i quali affermano che il più e il meno concernono esclusivamente gli accidenti, non le forme o nature degli individui appartenenti a una stessa specie. Non avrò tuttavia alcun timore di affermare che ritengo di essere stato molto fortunato, per essermi imbattuto fin dalla mia giovinezza in certi percorsi che mi hanno condotto a considerazioni e a massime, con le quali ho formato un metodo che, così almeno mi sembra, mi ha dato modo di accrescere per grati la mia conoscenza, innalzandola poco a poco al punto più alto che la mediocrità del mio ingegno e la breve durata della vita potranno permetterle di raggiungere. Da questo metodo ho già infatti raccolto tali frutti che, nonostante nei giudizi che formulo su me stesso, mi sforzi di propendere più verso il lato della diffidenza che verso quello della presunzione, e nonostante che, considerando con occhio filosofico le diverse azioni e imprese degli uomini, non ve ne sia quasi nessuna che non mi sembri vana e inutile, Non smetto, tuttavia, di provare una estrema soddisfazione per il progresso che ritengo di aver compiuto nella ricerca della verità, e per quanto riguarda il futuro, spero con tutte le mie forze che, se tra le occupazioni degli uomini, considerati esclusivamente nella loro qualità di uomini, ve ne è qualcuna che sia fondatamente buona e importante, questa, oso crederlo, è proprio l'occupazione da me scelta. Può tuttavia darsi che io mi inganni, e prenda per oro e diamanti quello che è soltanto un po' di rame e di vetro. So bene quanto noi uomini si sia soggetti a sbagliare in quello che ci tocca da vicino, e quanto anche i giudizi dei nostri amici debbano rimanerci sospetti, quando siano a noi favorevoli. Ma in questo discorso, sarò ben lieto di indicare quali siano i sentieri da me battuti, e di rappresentarvi la mia vita come in un quadro, perché ciascuno possa giudicarne, e perché io, apprendendo dalla voce pubblica quello che gli altri ne avranno pensato, possa avere un nuovo mezzo per istruirmi, mezzo che aggiungerò a quelli di cui solitamente mi servo. Il mio scopo, dunque, non è di insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per ben condurre la propria ragione, ma semplicemente di far vedere in che modo ho cercato di condurre la mia. Coloro che vogliono impartire precetti, devono stimarsi più abili di coloro ai quali li impartiscono, e se incorrono nel più piccolo errore, sono degni di biasimo. Ma presentando questo mio scritto semplicemente come una storia, o se preferite, come una favola, dove in mezzo ad alcuni esempi che si possono imitare se ne potranno forse trovare molti altri che giustamente non si vorranno seguire, spero che esso sarà utile a certuni, senza essere di danno a nessuno, e che tutti mi saranno grati per la mia franchezza. Fin dalla fanciullezza sono stato educato allo studio delle lettere, e poiché mi avevano persuaso che per loro mezzo si poteva acquistare una conoscenza chiara e sicura di tutto ciò che è utile alla vita, nutrivo un vivissimo desiderio di apprenderle. Ma una volta portato a termine l'intero corso di studi, alla fine del quale si è di solito annoverati nel numero dei dotti, cambiai radicalmente opinione. Mi trovai infatti intricato in tanti dubbi ed errori, che tutti gli sforzi da me compiuti nel tentativo di istruirmi, non mi sembrava che mi avessero permesso di trarne altro profitto, se non quello di aver scoperto sempre di più la mia ignoranza. Purtuttavia frequentavo una delle più celebri scuole d'Europa, dove pensavo dovessero trovarsi uomini dotti, se mai ce n'erano in qualche luogo della terra. Vi avevo imparato tutto quello che gli altri vi imparavano. Anzi, non contento delle scienze che ci venivano insegnate, avevo dato una scorsa a tutti i libri capitatemi tra le mani, che trattavano delle scienze considerate più rare e curiose. Conoscevo per di più il giudizio che gli altri avevano di me, e non mi sembrava che mi si stimasse inferiori ai miei condiscepoli, quantunque tra di loro ve ne fossero già alcuni destinati a prendere il posto dei nostri maestri. E per finire, il nostro secolo mi sembrava fiorente e fecondo di buoni ingegni quanto nessuno dei precedenti. Tutto ciò mi induceva a giudicare liberamente, per conto mio di tutti gli altri, e a stimare che non vera al mondo dottrina alcuna che fosse quale precedentemente mi avevano fatto sperare. Non per questo, tuttavia, desistevo dall'apprezzare gli insegnamenti che si impartiscono nelle scuole. Sapevo che le lingue che vi si apprendono sono necessarie per comprendere i libri antichi, che la delicata grazia delle favole rende sveglio l'ingegno, che le azioni memorabili narrate nelle storie lo elevano, e che, se sapute leggere con discernimento, contribuiscono alla formazione del giudizio, che la lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini più eminenti dei secoli passati, che ne sono stati gli autori, anzi, una conversazione meditata, nella quale essi ci rivelano solo quanto di meglio c'era nel loro pensiero, che l'eloquenza esprime un vigore e una bellezza incomparabili, che la poesia ha delicatezze e dolcezze che rapiscono il nostro animo, che nelle matematiche sono contenute invenzioni sottilissime, che possono essere di grande utilità, sia ad appagare i curiosi, sia a facilitare tutte le arti, e ad alleviare il lavoro degli uomini, che gli scritti concernenti i costumi contengono molti insegnamenti e molte esortazioni alla virtù veramente utili, che la teologia insegna a guadagnare il cielo, che la filosofia dà i mezzi per parlare con vero semiglianza su qualsiasi argomento e farsi ammirare dai meno dotti, che la giurisprudenza, la medicina e altre scienze apportano onori e ricchezze a coloro che le coltivano, e infine che è bene aver esaminato tutte le scienze, comprese quelle più superstiziose e false, al fine di riconoscerne il giusto valore e di guardarsi dall'esserne ingannati. Credevo però di aver già impiegato sufficiente tempo nello studio delle lingue e anche nella lettura dei libri antichi, delle loro storie e delle loro favole. In realtà conversare con gli autori degli altri secoli è quasi lo stesso che viaggiare, ed è giusto avere qualche conoscenza dei costumi dei diversi popoli, per poter meglio giudicare dei nostri, e per non ritenere che tutto ciò che non è conforme alle nostre usanze sia ridicolo e contrario alla ragione, come sono soliti fare coloro che non hanno mai visto nulla. Ma quando si passa troppo tempo a viaggiare, si diventa alla fine stranieri nel proprio paese, e quando si è troppo curiosi di ciò che avveniva nei secoli passati, si rimane di solito del tutto ignari di quanto avviene nel nostro. Senza contare che le favole inducono a immaginare come possibili avvenimenti che non lo sono affatto, e che persino le storie più fedeli, se non cambiano e non accrescono il valore dei fatti per renderli maggiormente degni di essere letti, tralasciano pur tuttavia di parlare delle circostanze più basse e meno famose, cosicché avviene che quanto in esse resta appare diverso dalla realtà, e che colori quali regolano i loro costumi sugli esempi che ne traggono, sono soggetti a cadere nelle stravaganze dei paladini dei nostri romanzi, e a concepire progetti che superano le loro forze. Apprezzavo molto l'eloquenza, e mi entusiasmavo della poesia, ma ritenevo che tanto l'una quanto l'altra sono doni dell'ingegno piuttosto che frutti dello studio. Coloro che sanno svolgere i propri ragionamenti con il massimo vigore, e organizzare nel modo più coerente i loro pensieri per renderli chiari e intelligibili, risulteranno sempre i più persuasivi, anche se parlano soltanto il basso bretone, e non hanno mai studiato la retorica. E quelli, poi, che sono capaci delle più piacevoli invenzioni e sanno esprimerle con lo stile più ricco di ornamenti e di dolcezza, non mancherebbero di essere i migliori poeti, anche se l'arte poetica fosse loro ignota. Al di sopra di tutto mi piacevano le scienze matematiche, per la certezza e l'evidenza delle loro ragioni, ma non riuscivo ancora a coglierne il vero uso, e pensando che esse servissero solo alle arti meccaniche, mi meravigliavo del fatto che essendo i loro fondamenti così stabili e solidi, non si fosse costruito su di essi niente di più elevato. Gli scritti degli antichi pagani che trattano dei costumi li paragonavo invece a edifici superbi e magnifici, che però erano costruiti sulla sabbia e sul fango. Essi innalzano ai sommi fastigi le virtù, e le fanno apparire stimabili sopra ogni altra cosa che esiste al mondo, ma non insegnano abbastanza a conoscerle, e spesso ciò che chiamano con un così bel nome non è altro che insensibilità o orgoglio, o disperazione, o parricidio. Per la nostra teologia nutrivo un grande rispetto, e come qualsiasi altro aspiravo a guadagnare il cielo, ma poiché avevo appreso, come cosa certissima, che la via per arrivarvi è aperta ai più ignoranti non meno che ai più dotti, e che le verità rivelate che ci portano in paradiso sono al di sopra della nostra intelligenza, non avrei avuto l'ardire di sottometterle alla debolezza dei miei ragionamenti, e ritenevo che per accingersi a esaminarle con successo sarebbe stato necessario avere qualche assistenza straordinaria del cielo ed essere più che uomo. Per quanto riguarda la filosofia, dirò soltanto che vedendo come essa sia stata coltivata dai più eccellenti ingegni che siano mai vissuti da molti secoli, e come tuttavia non si trovi in essa nulla su cui non si discute e quindi non sia revocabile in dubbio, non ero a tal punto presuntoso da sperare di riuscirvi meglio degli altri. Considerando inoltre quante diverse opinioni possano essere sostenute relativamente a uno stesso argomento da persone dotte, mentre non ve ne può essere più di una sola che sia vera, giunsi a reputare quasi come falso tutto ciò che era soltanto verissimile. Riguardo poi alle altre scienze in quanto esse traggono i loro principi dalla filosofia, giudicavo che non poteva essere stato costruito nulla di solido su fondamenti così poco stabili. D'altronde, né gli onori, né i guadagni che tali scienze promettono, erano per me motivo sufficiente per indurmi a studiarle, perché, grazie a Dio, la mia condizione non era tale da costringermi a fare della scienza un mestiere per migliorare la mia posizione, e quantunque non ostentassi di disprezzare la gloria come i cinici, pur tuttavia facevo assai poco conto di quella che potevo sperare di procurarmi con falsi titoli. Per quello infine che riguarda le false scienze, già le stimavo così poco da non lasciarmi ingannare, né dalle promesse di un alchimista, né dalle predizioni di un astrologo, né dalle imposture di un mago, né dagli artifici o dalle vanterie di coloro che proclamano di sapere più di quello che effettivamente sanno. Per tutte queste ragioni, non appena l'età mi permise di liberarmi dalla tutela dei miei precettori, abbandonai del tutto lo studio delle lettere, e, deciso a non ricercare altra scienza se non quella che poteva trovarsi o in me stesso o nel gran libro del mondo, trascorsi quanto rimaneva della mia giovinezza a viaggiare, a visitare corti ed eserciti, a frequentare gente di diversa indole e condizione, a raccogliere varie esperienze, a mettere me stesso alla prova nelle situazioni che la fortuna mi offriva, e ovunque fossi a riflettere su tutto ciò che mi si presentava, in modo da trarne qualche profitto. Mi sembrava infatti che avrei potuto riconoscere molte più verità nei ragionamenti che ciascuno svolge relativamente agli affari che gli stanno maggiormente a cuore, e il cui esito può subito dopo punirlo, se gli ha fatto difetto il giudizio, che non nei ragionamenti compiuti nel chiuso del suo studio da un uomo di lettere, che specula su questioni che non producono alcun effetto, e la cui unica conseguenza non sarà forse altra se non che egli ne trarrà tanta maggiore vanità, quanto più esse saranno lontane dal senso comune, dato che avrà dovuto impiegare tanto maggior ingegno e artificio per cercare di renderle veri simili. Tuttavia nutrivo pur sempre un estremo desiderio di imparare e di distinguere il vero dal falso per vedere chiaro nelle mie azioni e procedere con sicurezza in questa vita. Vero è che limitandomi a considerare i costumi degli altri uomini non vi trovavo nulla su cui avere qualche certezza, e anzi, vi notavo quasi altrettanta varietà quanta precedentemente avevo trovato tra le opinioni dei filosofi, cosicché il maggior profitto che ne ritraevo era che vedendo molte cose le quali pur sembrandoci assai stravaganti e ridicole non per questo sono meno comunemente accettate da altri grandi popoli e imparavo a non prestare eccessiva fiducia a tutto ciò di cui ero rimasto convinto solo in base all'esempio e alla consuetudine. E in tal modo mi liberavo a poco a poco da molti errori che possono offuscare il nostro lume naturale e renderci meno capaci di seguire la ragione ma dopo aver trascorsi alcuni anni a studiare così nel libro del mondo e a cercare di acquistare qualche esperienza presi un giorno la decisione di studiare anche in me stesso e di impiegare tutte le forze del mio ingegno a scegliere il cammino che avrei dovuto seguire il che mi riuscì molto meglio mi sembra di come mi sarebbe riuscito se non mi fossi mai allontanato dal mio paese e dai miei libri. il buon senso è e dai miei libri.